è possibile ottenere la libertà finanziaria una libertà finanziaria in cui puoi gestire il tuo tempo, puoi gestire i tuoi risparmi, puoi gestire il tuo compenso, una libertà finanziaria che ti permette di essere in piena autonomia. Bene ragazzi sono Cristian Ciuffa, un trader volumetrico ciclico geometrico, se vuoi sapere e capire come operare nei mercati finanziari con la consapevolezza di te stesso di questo business e di ciò che stai facendo allora iscriviti a questo canale basta cliccare la campanellina sia il tasto ovviamente di iscrizione che la campanellina per ricevere notifiche quando sono in live dal vivo e quando carico un nuovo contenuto proprio come questo. La libertà finanziaria è una difficilissima, molti dicono, per arrivare veramente a fare quello che si vuole, a gestire più che altro il proprio tempo, gestire le proprie attività, gestire quello che sono magari anche le proprie aspirazioni. Ecco, come fare? Beh, ci sono veramente tantissimi modi per cercare di raggiungere questa libertà finanziaria. Beh, sicuramente i settori che riescono a farvi arrivare a un certo modo e una tempistica abbastanza breve sicuramente sono quelli in cui devi guadagnare il più possibile in modo tale che avere e raggiungere poi un un compenso costante per poter poi fare ciò che si riesce più opportuno per quanto riguarda le proprie per gestire le proprie esigenze, per gestire appunto in automia anche la una una vacanza, un qualsiasi tipo di di cosa che può avere un un gradimento personale. Bene, sicuramente i modi sono tanti tra cui anche magari puoi scommettere per riuscire ad avere una rendita talmente tanto da poter fare proprio questo tipo di cosa. Quindi vado lì, scommetto al superenalotto. Ecco, ma quante probabilità hai di ottemperare e di avere più che altro un ritmo costante, avere magari anche soldi in modo tale da avere questo tipo di diciamo di cifra per poi diciamo farti star bene tutta la vita, no? Oppure vado al casino, scommetto, faccio quello che che riesco a fare per ottenere una cifra ma veramente una cifra grande perché ti deve appunto diciamo deve copirti per tutto quanto il tuo la tua vita e magari quella dei tuoi figli, no? Ma sono cifre enormi che dovresti che dovresti prendere in considerazione. Oppure c'è l'investimento, non solo l'investimento ovviamente nei mercati finanziari, c'è anche l'investimento nell'immobiliare, no? Quindi la compravendita di case, c'è l'investimento come accantonamento, quindi si lavora un certo periodo e poi si accantona talmente tanto che poi hai un investimento che ti consente di avere una percentuale di guadagno in più dell'accantonamento che tu hai avuto. Oppure puoi investire per esempio nei mercati finanziari, nell'oro fisico, nel bitcoin, quindi fare un investimento fisico come per esempio acquisto l'oro, acquisto bitcoin per quanto è il valore, quindi 40 miliardi di bitcoin e sperando che poi arriva a 100 mila e riesco ad avere con questo, in questo tempo, posso comunque guadagnare nel, in un modo tale da ottenere più soldi possibile. La cosa che invece io ti dico che puoi anche avere lo stesso, lo stesso identico modus operandi, lo stesso modo operativo per quanto riguarda sia l'investimento in beni fisici che nell'immobiliare o qualsiasi tipo di investimento tu faccia, c'è il trading che ti può investire nei mercati finanziari quindi anche sia nel lungo periodo che nel breve periodo per acquisire quel guadagno costante che ti può far aumentare appunto il tuo capitale per avere poi un guadagno costante nel tempo anche con poche operazioni. Quello si può fare però devi avere per tutti quanti i modi di investimento, per tutti quanti i modi di investimento di avere un piano di investimento. Questo piano di investimento ti consente di avere ovviamente anche una conoscenza tua personale, quindi acquisire la libertà finanziaria è comunque di avere un capitale iniziale almeno per poter iniziare a investire. Quindi uno avere un piano finanziario, due avere un capitale e la terza cosa è ovviamente devi cercare di studiare il tuo settore di investimento per avere appunto la piena consapevolezza di ciò che stai facendo. Quindi per esempio ci sono vari tipi di corsi a seconda, per esempio il mio corso trading once è un corso che è adibito per diciamo il trading e l'investimento nei mercati finanziari a 360 gradi, quindi cominciando dal forex, materie prime, azioni, opzioni eccetera eccetera, e criptovalute. Quindi è un corso che tu puoi fare per il trading. Ci sono dei corsi magari che tu puoi fare per per esempio investire nell'immobili, quindi investire nel mattone come si suol dire. Quindi l'investimento sia per quanto riguarda la costruzione, quindi nell'edile, che anche nella compravendita di immobili già fatti. Quindi vedi devi avere sempre comunque poi un'educazione in quello che stai facendo, ok? Quindi ricapitolando le tre cose che dovresti tenere a mente, cioè il piano, tutto, anzi io metterei come prima cosa sinceramente il, devi sapere tutto del tuo settore di investimento. Due, devi ottenere quindi una, per ottenere poi piena autonomia di investimento, devi avere comunque un capitale iniziale per poter cominciare ad investire e poi ovviamente di avere un piano ben strutturato per quanto riguarda sia ciò che vuoi fare il tuo piano di investimento che anche però devi fare una tua conoscenza personale per poter poi capire quale tipo e come e in che tempistiche tu devi fare quell'investimento. Quindi anche una tua conoscenza personale è molto importante. Bene, questo penso sia tutto quello che sinceramente volevo dirti per quanto riguarda appunto il piano di diciamo che puoi avere, il piano tuo mentale che puoi fare e un'idea mentale che puoi fare per ottenere quella libertà finanziaria che ti dicevo, per poter poi anche gestire in autonomia il tuo tempo, perché comunque quelle attività di investimento nel frattempo che tu investi e guadagni, nel frattempo di poi ricevere un guadagno che ti consente di fare, di avere tempo per te stesso, per la tua famiglia e per le tue attività e aspirazioni. Quindi prima però devi valutare effettivamente quello che deve essere il diciamo la tua appunto forma mentis e il tuo piano di investimento. Molto importante sono specialmente queste cose. Bene, se ti è piaciuto questo video lasciami un like, dimmi, condividi questo video anche con i tuoi amici e ovviamente puoi lasciarmi un commento se ti piace questo video di contenuto oppure se puoi farmi una domanda riguardo proprio questo tipo di argomentazione. Bene, non mi resta che darti il buon trading, non mi resta se invece sono le prime volte che vedi anche il mio canale e stai cercando di capire come investire i tuoi soldi, io ti auguro veramente di capire al meglio e seguimi anche sul mio canale per capire meglio magari come, dove, quando investire in diversi modi ma specialmente ovviamente nel trading, quindi nel mercato finanziario. Ciao!